no no ben ragazzi ebbene se questo è visto il video del quadrato fratelli di me per poco mi fate mi faccio di cadere scusami a morire ero bella ho tante cose ho tre cuori tre cuori io ne ho ne ho tutti i 10 vabbè e comunque ecco un'altra puntata via skype maio ok sotto qua sicuramente c'è qualcosa quindi anche questo è visto per questo è l'episodio finale il perfis quanto ci vediamo ci avrei fatto su quanto volete occhio non occhio mirko merda ci stavo per cadere ragazzi voglio presto salire e se si sali mirko no te lo spaccate intorno no non c'è niente ero eh si ma non la usiamo per fare la strada capito ok io prendo l'altra netherrack così prendo la blusso che meno fa filo e fa luce ma non prendere tutto che non c'è strada ok io faccio un po' la strada per dire io ragazzi ho 13 verghe di blaze ah forse potremmo fare anche come si chiama il corso degli incantisi ho fatto cos'è verghe di blaze vabbè io sono a casa raga anzi no 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 che cazzo torna a casa in casa quasi quasi poterei la roba un po' di roba qui ma se io eric quando me lo prenderò vai se si si giusto vero vero la tua la tua cosa mi sembra giusto ok ehm direi che si può andare avanti o sbaglio ma cosa è la e lava e lava con dei netherworld se ed è grosso aspettare si 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 ma tranquillo ciao fai tra mare lo fare il mio salto per c no no qua niente salto se non ti faccio con la mamma ok quando non dobbiamo fare come io muoio te co tre cuori eh io ho agli ottima nocipo ci togli ti forse geronimo il culo del fortunato io morirò ho ho 3 e mezzo ho tre cuori io due cuore e mezzo terzo tranquillo t p o ci sei pensiero allora questi qua si o aspetta ragazza aspettate mi serve eh ragazzi mi uccido un attimo perchè mi devo uccidere un attimo no 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 e contro le regole e vado aspetta aspetta prendete un attimino la mia roba ho voglia di regalartela sta sopra ragazzi venite a prenderlo un attimo slash kill e il tuo nome e cosa c'è qua scusa no 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 oh che bella ma tocca aia no 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 che è successo niente per sbaglio è salutato nella lava non c'è niente che diavolo dobbiamo fare con gli occhi allora volata icone tipo qualcosa no eh tieni che la presa è la spa tieni e allora che cazzo bisogna fare ma c'è anche una poste no allora se allora non abbiamo la minima idea di cosa bisogna fare eh ci servono delle ender pearl e dove li troviamo andiamo di fuori per vedere se c'è le rotter blade le rotter blade le rotter blade le imprese eh ma ci serve e ho preso anche l'occhio netherworld vabbè con la roba lì a 3 isola no eh mmm io non le vedo voi no 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 guarda sopra 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 ah è vero vedo della glowstone si aspetta anche qua di lato c'è della glowstone ma non credo che ci sia qualcosa ma dov'è che la vedete sopra la casa e la casa il punto di spawn non so se la vedi la vedi aspetta no perchè boh aspetta dove che sopra esattamente sopra il portale ma ecco la distanza normale eh io ce lo farò perchè sennò non vedo un cazzo ora ce l'ho a far pure io ah e c'è della glowstone la sopra hai ragione vado io ragazzi io vado di qua dove ci sono due di glowstone quindi io vado di qui ah si non l'avevo viste cazzo ma mi sembro di piacca me perchè se no non posso salire stai lì nessuno ti vuole oh 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 cosa c'è già a quarti lì sopra io per ora non vedo niente spero di trovare altre rod and blades e spero di trovare le enderpearl o anche le enderpearl non so quanti occhi mancavano no abbiamo neanche uno no ma quanti occhi mancavano di qui troviamo uno poi vediamo trasmutation table table esatto ok inutile non si può imparare scava scava da corso ho preso io tutta la roba delle ceste sanno calentano i pesci di gusto tranquillo te li sto buttando io eh lo so li sto prendendo no pochino niente zero io l'ho smantellata tutta l'ho smantellata tutta quindi perchè c'è il neder perchè c'è il neder sono per le ver... no non solo perchè mi sembra un po' strano mi sembra un po' strano mi sembra un po' strano che ti solo per le berghe non credete si perchè chiami berghe perché berghe di blitz va bene mi piace anche di blitz. ah e poi c'è anche il fungo lì quel fungo lì netherworld netherworld hot il terreno si maledì seppua fare le pozioni come no fare tipioli ok ritorniamo nel mondo normale ehm fare tipiolpi eh prima torna nel mondo normale è uguale no ok allora morella della favola ehm si eri di codici pino dettagli che cos'è il potere da un fuoco Non ne ho idea Allora il nether era inutile Si dunque Ci serve due occhi di Di quella sexy cosa Allora io intanto crepo Per sbaglio Quindi ragazzi Mi sa che dobbiamo trovarli noi enderman Esatto Oh sono morto spontaneamente Soffro di auto Chi mi fotte la roba è un gay Vabbè Io intanto tipo Faccio un giro delle isole di nuovo Per vedere se magari abbiamo dimenticato qualcosa Non lo so Cosa che non credo Però vabbè Cioè d'altronde abbiamo fatto tutto Abbiamo girato Costruttore della mappa fai schifo Perché non riusciamo a capire che cazzo bisogna fare Dettagli altamente sdrogo Là c'è tipo guarda La cosa che era più grande ma Già guardi Si Ragazzi Ragazzi Due vento No no anche io Qua c'è del ferro Dunque Siamo zitto Sì sì Dunque venite Siamo perplessi La merdosità di questa mappa Nel clonc Lui di la sua storia Allora Allora Comunque Sì 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 E sopra Coppa Sonzut Ah già fatto ma Non l'ho visto E' ubriaco Comunque raga Io vi aspetto al portale Dell'Ned Dell'Ned Capito Dell'Ned Dell'Ned E' perché cosa ne facciamo E' che E' lo apriamo E' qua E' sponare le Enderpearl Se è l'unico metodo Tranquilli C'è vi giuro è l'unico medico metodo Ah beh però sponare Enderpearl Che io faccio le Blazerot Eh ho Quanti Blazerot dai Eh ne ho 13 quindi Io ne ho tre No vabbè faccio Vabbè venite qua al portale Fatevi la strada Barboni E' come qua Come cazzo hai fatto scusa Ah ah Te l'hai fatta piedi Non credo Eh raga ma come andiamo Ma senti appa Spellender Dragon Mi spiegate Cosa ho cazzo E' magari io Magari non c'è l'Ender Dragon Che lo so Ah 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 Che cazzo era Il suo cane malvagio E' stato bruttissimo Ah ah E' per battere ci serve anche un arco Ok il drogo dettaglio Ragazzi E' bastardo Ci siete? Sì Ok 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 Occhi no Cos'è che servivano gli occhi del Lender? No No vabbè no e tu fai le Enderpelli faccio Mi faccio gli occhi del Lender Ragai mi cazzo una spada di diamante Ok 268 Cioè 368 Cosa c'è Giaworth? Ah Ah 368 4 Voi Fatto Ehm Dammi ci sei Sì 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 Non lo faccio anche Oh cazzo Ma cosa stai facendo? Una cosa Non bastano comunque Eh Te lo dici Fatto ora basta Di certo 1 a 2 Cosa che dice qua? You can't tell you will have to fight Queste entrerai di batterti con le Ender Dragon Ok Cazzata Cess Troppo facile Ok Aspetta L'ultimo occhio Lo metto appena viene a Giawa Giawa Aspetta Aspetta Ti teletrasportiamo Cosa stai 8 Non Cos'è Sono aspettate Ok Funziona Benissimo Aspetta Ario Sette Nella prigione Sì Sette L'arte lì dice che dobbiamo combattere vero Sì sì Dove sei Ti facciamo di più Ho fatto una cosa con i circuiti Ecco Ha fatto le porte di Fer Sì Cose più inutili Eh ci sei così Per sicurezza Arrivo Sono qua vicino Ma fatti più lo senti Ecco Vieni 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 Non continui Vai 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 L'ordano quando vuoi Tre Non due Uno No Vai Quando vuoi Ok Tieni l'acqua Tieni l'acqua Domani Dettaglio La Questa Ok Dami Spada tutto C'è per combattere Io non ho Una spada Una spada Di pittai Trovo Tata La gai C'è una spada Diamante Quindi Abbiamo così tanto Fer Non l'abbiamo usato Eh non possiamo E non possiamo Ah ne è diciamo Allora facciamoci due spade Ce l'avete della Coppa Sono Sì 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 Abbiamo Deppora Presto Sì Perfetto Odere Faccio La Faccio La Farnace Metto Il carbone Non ho niente Quindi Farnace Eh Io No Il ferro Cazzo Fai Lo sto Mettendo Io Ok Ottimo Adesso E' 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 Negativo Ragazzi O' C'è 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 L'aglio Ok Io Mi Prendo L'ultimo Pezzo Di ferro Anzi Ci facciamo Tipo Una Schifo Di armatura Sì Perché Prendete Tutto Tu Non C'è Il Non Tutto L'ho Preso Io Ne ho Presi Due Non Tanti Quanto Si Veloce E' Ho Scheggetto Tipo Come Un Pazzo Ok C'è 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 Allora Una Solo Io Grazie Un Po Allora Adesso Ci Facciamo Tipo Qualcosa Dall'armatura Tipo Il E' L' Ci Facciamo Solo Il Cappello Dai Io Già C'è Lui Cappello E' Allora Vabbè Quanto Siete Veloci Cazzo Io Non sto Facendo Niente Mirko Che Stai Siamo Come Un Malato Per ora Ok Ora Vi Batto Pronti No Me Lo Che Vazze Non Lo So C'è L' Amato Su Skype Cappello 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 Diamo chi ce la farà Sì Il Ma come Com'è fatto Ragazzi Vidi Vi do un consiglio Un consiglio piccolo Allora Guardo che di voi c'è una fontana Di acqua Ragazzi Ricordo che di tre di voi c'è una fontana di acqua Ragazzi Ricordo che di tre di voi c'è una fontana di acqua No Le prese Tutore Perchè Che cazzo fare C'è una fontana di acqua di tre di voi Ora Ora Qua non ci credo ha fatto una coglionata Ragazzi Oh Ma è andata nella lavata No 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 Non è un demomini Per l'autica La roba Ma se un coglione Lo so Io Ho dato poco a tutti Gli ero Dagli la roba Ah vero Aspetta No E' da me pure m il posto la sua sua ipotesi anche il papa ero caro il ferro tipo e' inserita la parola diamante la mia famiglia spagna del seno ok si tratta questi due ora da una spalla diamante no giuro però che faccia le chiamate di oro non io non c'ero ma la merda che vedrà anche nel video vabbè io vado io non so che io aspettino a farlo e ragazzi perché la domanda stavolta ragazzi ecco ti ho avuto a fare le tuteo ca continuiamo qua fermiamo il cuore ma quanti io non ho quasi niente che hanno tutto a te anche se posso dare ragazzi mi sentite e un attimo l'agra l'agra tutto ok c'era allora fermiamo quale episodio o continuiamo ma no andiamo avanti andiamo avanti cioè manca pochissimo ok aspetta la pagina o a pata raga sponatemi una spada di diamante come sponiamoci tutti una spada di diamante no i pappet a me solo perchè ragazzo l'agra e perciò l'orate non mi interessa la festa basta eh dai giù non è persa basta c'è te cava è persa basta acerano e la piaia no io erano lì io non ce l'ho la spada ce l'abbiamo di ferro si è uno di ferro cero mi chiami fregato anche la roba ma non io io non ce l'ho più giuro vi faccio gli investiti se vuoi ok possiamo andare 1 2 è dato sono andato oh cazzo sono no me ne ho dato già qua ehm ehm ok possiamo riuscire a ucciderli da qua no non ce la facciamo sono tanti che oh merda sto cadendo nel vuoto sei morto siamo nella merda ok ragazzi direi che questa puntata troll è finita qui perché quando la misa mi sa tanto di due ragazzi preparate il no oh mio dio ragazzi preparate il tp o l'ho ma adesso logo ok ok ma già ti ho fatto il titolo no 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 io sto cadendo eri io pronti partenza vai via va va vai vai a morirò anzino aspetta ora li vengo perché siamo qua ragazzi io direi di concludere questa puntata fail perché assolutamente non lasciamo a giocare cioè è finito è finita la mappa si è finita è impossibile uccidere 30 mostri 30 dragoni quindi esatto è comunque vorrei comunicare una semplice cosa non avete visto questo al creatore della mappa cosa è sta roba fai schifo ultimo ok e direi di concludere questa puntata con uno scazzeggiamento questa serie giusto questa serie il canale di mirko è sempre nella descrizione dell'uomo perché è stato un speciale ospite per tutto che stessi 30 per l'abbiamo detto dai alberto per la setta mirko è tutto bella tutti bella 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 bella